Penso che ormai i miei iscritti più fedeli siano a conoscenza del programma che utilizzo per editare i miei video, cioè Filmora X, che con la massima sicurezza posso definire il miglior programma di editing di quest'anno. Le nuove funzioni aggiunte sono veramente tantissime e ci mettere ore solo per elencarle tutte, ma quelle più interessanti che renderanno i vostri video veramente professionali sono sicuramente il tracciamento di movimento, essere convinto ad auto-ripararsi, tantissime transizioni, effetti di titolo stupendi, Green Screen e registrazione dello schermo del PC. Una funzione utilissima implementata stesso all'interno del programma, attivabile con due click che sto utilizzando in questo preciso istante per registrarvi questo video. I prezzi sono veramente bassissimi e vi lascio il link qui sotto in modo che li potete consultare voi stessi. Inoltre vi lascio anche il codice sconto del 10% sul piano a vita di Filmora X, quindi direi che il momento perfetto per approfittarne e investire nel proprio futuro da videomaker o da youtuber. A Hollywood continuano a credere che le piramidi egizie siano costruite in mezzo al deserto sperduto dell'Africa, quando in realtà si trovano sempre vicino ai punti abitati da milioni di persone. E ovviamente vicino non c'è nemmeno un turista, tranne gli americani che sono appena arrivati con l'autobus. I poliziotti stanno lì proprio per impedire la gente di oltrepassare le sbarre e andare vicino alla piramide, quindi perdono tempo in chiacchiere inutili e non notano un bambino a mezzo metro di distanza. Che poi da dove sono comparsi se fino a un secondo fa non c'era né la sbarra e né i poliziotti. Questo ponte di legno serve qui solamente per far sì che il bambino cada sulla piramide e lasci proseguire la trama. Non c'è altra spiegazione logica. La fisica è del tutto assente durante questa scena. Mi sa che Einstein si sia capovolto nella bara. I grafici si sono dimenticati se l'aeroplano era nella mano sinistra o in quella a destra. Come puoi tentare di prendere un oggetto che si trova 10 metri più a sinistra rispetto alla tua posizione? Cioè cosa sta guardando in questo preciso momento? Perché la piramide si è sgonfiata? Per caso Justin aveva delle spine piazzate dietro la schiena? E poi se è solamente un palloncino riempito d'aria, in che modo poteva stare immobile come se fosse di pietra? Tra l'altro qual è il senso logico di scambiare la piramide vera con la sua copia falsa? È fisicamente impossibile creare una figura simile da un solo palloncino, dato che ci dovrebbero essere al massimo due estremità, non una decina come ci viene mostrato. Ma quindi Gru sta uccidendo tutte queste persone in fila? Anche se le ha solamente congelate, come minimo moriranno nel giro di qualche minuto poiché non possono respirare attraverso il ghiaccio. E perché mai può andare in giro a uccidere la gente e tornare a casa come se niente fosse? Dov'è la giustizia? Questa dovrebbe essere la morale da mostrare ai bambini. Puoi fare quello che vuoi e la gente è buona e non verrai punito in alcun modo. Fantastico! Gru ha preso il caffè e il sacchetto con i muffin. Il caffè l'ha bevuto in macchina, dopodiché si è diretto verso casa non avendo nulla tra le mani, mentre dentro il sacchetto compare dal nulla per magia. Se queste bambine vendono i biscotti, dov'è il loro carrello con le confezioni? Vanno in giro praticamente senza nulla da vendere, a quanto pare solo per infossidire la gente. Ciò vale anche nella scena in cui entrano nel palazzo di Vector, praticamente vanno a mani vuote. I pixel rotti dello schermo dovrebbero essere immobili, perché mai si muovono insieme alla scritta? E in tutto ciò, dove sono le videocamere e i cameraman che riprendono Gru da diverse angolazioni in questo preciso momento? Abbiamo rubato la Statua della Libertà! Quella piccola di Las Vegas! Ma la Statua della Libertà di Las Vegas è alta 45 metri. Cosa mi dovrebbe significare questo coso alto 3 metri? Peggio ancora per la Torre Eiffel, la quale a Las Vegas è 100 volte più grande di questo souvenir da 4 soldi. Ma siete sicuri che Gru non abbia ancora inventato il raggio restringente? Perché mai i Minions buffano per la Statua in miniatura se sono stati loro stessi a rubarla e quindi dovrebbero già sapere quanto è grande? La luna è piena sempre presente ormai. E come mai è già notte fonda se Gru è sceso nel laboratorio qualche minuto fa ed era a pieno giorno? Che poi era sicuramente mattina dato che era passato al bar a prendere caffè e muffin. Seriamente è convinto di poter rubare la luna come se niente fosse. Lo scienziato non gli ha spiegato nulla sulle imminenti conseguenze catastrofiche a cui andrà incontro la Terra nel caso riuscisse nel suo intento. Moriranno tutti gli abitanti, compreso lui e tutti i Minion. Nifario usa la radio per chiamare il cellulare di Gru. Le bambine si sono fermate sulla linea a un metro di distanza dal tavolo. Un attimo dopo Agnes tocca il tavolo con le mani e un attimo dopo saltano tutte e tre di nuovo sulla linea. Seguendo le leggi della fisica, quest'auto dovrebbe cadere di lato dopo ogni curva. Le colonne sulla sinistra ad un tratto cambiano del tutto e vediamo delle figure completamente diverse. Ma pochi attimi dopo tutto torna alla normalità. E perché Gru fa queste smorfi è come se le vedesse per la prima volta. Pochi minuti fa ci ha detto che ha già preso numerosi prestiti dalla banca. Ciò sta a dire che queste statue le avrà viste decine di volte ormai. La mela salta dalla mano sinistra a quella destra durante il cambio di inquadratura. Mentre i resti caduti a terra scompaiono nel nulla dopo un millisecondo. In che modo Gru ha scoperto in quale laboratorio verrà testato il raggio restringente e in quale preciso posto della stanza si troverà per farci il buco e rubarlo da sotto gli occhi degli scienziati. Mentre dove è finito il buco nel tetto è intagliato da Vector che ci hanno mostrato due secondi fa. Il raggio restringente entra direttamente nella turbina. A quanto pare quest'ultima funge anche da bagagliaio. Vector ha rubato il mio raggio restringente senza il quale il mio piano non potrà essere messo in atto. Beh, direi che il momento esatto di farlo scoppiare all'aria è disintegrarlo completamente. L'elefante si è rimpicciolito in due secondi. La nave di Gru ci mette quasi mezzo minuto. Nessuno ci farà caso a una piramide enorme che è stata rubata proprio qualche giorno fa. Basta che la pittura è di blu ed è tutto a posto. Ovviamente il regista non ci ha voluto spiegare in che modo Vector sia riuscito a rubare la piramide alta 150 metri dal peso di 4 milioni di tonnellate. E oltre a rubarla in modo segreto l'ha anche trasportata dall'altra parte del globo senza che nessuno se ne fosse accorto. I missili cambiano completamente durante il cambio di inquadratura. E se Gru è stato colpito quando non indossava gli occhiali, perché sul suo viso sono comparsi questi due cerchi intorno agli occhi? Il cratere si è formato a un centinaio di metri di distanza dal cancello. Nonostante Gru stesse proprio davanti a esso. Ed è inutile dire che dopo un'esplosione simile di Gru non dovrebbe rimanere nulla a parte un po' di polvere in fondo al cratere. Per puro caso le bambine sono venute a vendere i biscotti a Vector per la prima volta proprio in questo preciso istante. E ovviamente non hanno sentito alcuna esplosione stando a qualche metro di distanza. Facendo finta di essere un dottore, bisogna per forza presentarsi l'orfanotrofio in camice da lavoro e con gli strumenti sulla testa. E cosa ci fa un bambino in un orfanotrofio delle ragazze? Clicchè dell'attore che guarda allo specchio per vedere il riflesso della cinepresa è presente anche in un film d'animazione. Dietro il lavandino ci dovrebbero essere come minimo altri due tubi, soprattutto quello dello scarico dell'acqua. Mentre da questo sulla parete dovrebbe uscire un potente flusso d'acqua. E da quello sotto al water non dovrebbe uscire nulla. Perché fanno le cose al contrario? Posso tenerti la mano? Ma come fa a darti la mano se gli arrivi al ginocchio? Gli stracci del giornale scompaiono durante il cambio di ripresa. Come fa Agnes a sfiorare il telecomando con le dita se avendo le braccia così corte non può toccarsi neppure la punta della testa? Il minion svenuto a terra dopo l'utilizzo dell'arma a gas scompare dopo qualche istante. Ma non vorresti spiegarci come mai i tuoi cugini sono alti 30 centimetri e sono dei mutanti gialli? E perché nessuno degli umani non si meraviglia di questi esseri gialli che corrono in giro e parlano a vanvera in qualche loro lingua strana? Ah, magari perché hanno un mascheramento così professionale che nessuno riesce a distinguerli dagli umani veri. Il primo televisore al mondo avente la telecamera piazzata al centro dello schermo. Sull'ultima pagina del libro c'è un disegno, un attimo dopo c'è una pagina bianca e poi di nuovo il disegno. Perché mai i minion sono entrati nella stanza stando uno sopra la testa dell'altro? E da dove è comparso questo unicorno se abbiamo visto un secondo fa che non aveva nulla tra le mani? Ci stiamo dirigendo il palazzo del nostro nemico a cui dobbiamo rubare degli oggetti. Bel momento adatto per passare con la macchina davanti alle telecamere. Edith lancia sul tavolo sei confezioni di biscotti. Poco dopo vediamo che non c'è più nulla. Nel giro di due secondi Gru è riuscito a chiudere lo sportello della cassaforte, aprire il condotto della ventilazione e infilarsi dentro con i minion e due metri di capsula. Niente di surreale. Tra l'altro questi condotti dovrebbero essere larghi qualche decina di centimetri. In questo film invece sono alti due metri e permettono di correrci l'interno come se fosse una pista ciclabile. Qual è il senso di pescare stando sul dirupo a 100 metri di distanza dall'acqua? Questa sbarra di sicurezza rosa scompare del tutto quando Gru scende dalla trazione. La cannuccia del bicchiere cambia continuamente di posizione durante tutta questa scena. Gru ha disintegrato mezzo parco, ma ovviamente tutti i presenti compresi i bambini fanno finta che non sia successo nulla. E' di nuovo un altro televisore avente la telecamera al centro dello schermo. Oh ma quindi Vector è figlio del proprietario della banca? Ma allora perché stavo nella sala d'attesa aspettando il suo turno? E perché continuo a pensare che il raggio restringente si trovi ancora a casa sua se tutto il sistema di sicurezza è fuori uso? Questo screen non era mai presente nella videoregistrazione. C'era solamente Edith con Gru alle sue spalle senza alcun raggio restringente. E tra l'altro quando Gru si è voltato verso lo schermo, le ragazzine erano già scomparse. Le dita di Gru trapassano le pagine come se fossero dei fantasmi. Gru? Tu e io ci lavoriamo da anni! Ma tu e Gru ci lavorate da due settimane massimo? Fino al giorno della scomparsa della piramide non sapevi nemmeno che Gru volesse rubare la luna. Quanto tempo ci vuole per raggiungere la luna? Beh massimo 15 secondi. Partiamo alle 3 e per le 4 stiamo già sulla terra per vedere il saggio delle bambine. Ma chi è che sta riprendendo questa scena? Questo momento avrebbe potuto suscitare qualche emozione di compassione se solamente all'inizio film non ci avessero dimostrato l'immortalità di Gru. La porta della navetta è stata bloccata dalla luna. Un secondo dopo questa scompare nel nulla. Sul palco, Edith e Agnes indossavano le calze. Poco dopo indossano solamente i calzini. A fine film la luna è diventata 100 volte più grande rispetto alla normalità rispetto alla ripresa che ci fu mostrata poco prima. E se la luna è così enorme, la terra dovrebbe essere 10 volte più grande rispetto a come ci viene mostrato nella scena di Vector.